Benvenuti all'Arena Centrale per il Day 3 Siii! Best videos! Iniziamo a parlare della fame nel mondo Ma è magnetico? Qual è la... No aspetta aspetta, bisogna trollare nel momento giusto Adesso qua non ci sono problemi, fanno qualche passaggio in mano comodo E riescono a prendere la... Quince la preveggenza magnetico, quando c'è lo sparone... Ah vedi, non l'hai previsto È dentro, è dentro, è dentro... È dentro facile No no, ma si sente lo stesso Adesso mi avvicino, è che non volevo disturbare questi signori che se no vedevo la partita Allora lascia, lascia, lascia presto Non lo so, devi chiedere mambo Mettite l'atlantone, bravo Mi serve Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.